Ieri abbiamo visto come l'unica droga, tra virgolette, bella, l'unica dipendenza che non crea dipendenza, schiavitù, ma che ti libera dentro è Gesù. E questa verità, stavo dicendo concetto, ma non è un concetto, una verità, un dato di fatto che Gesù ti libera veramente, perché l'amore libera sempre. L'amore non rende mai schiavo, diffidati di tutti quelli che in nome dell'amore o di un falso concetto dell'amore o di un amore malato vogliono creare dipendenza, vogliono creare schiavitù, vogliono tirare a sé. L'amore vero crea libertà, l'amore vero crea realizzazione nell'altro, più che in me stesso. Allora, questa bellissima immagine ci introduce anche su di un argomento su cui spesso ci si divide, su cui da tempo parliamo per poter dare una risposta, per esempio, al problema della droga, delle tossicodipendenze. Molti invocano, e non da oggi ma da tanto tempo, la liberalizzazione delle droghe, cioè cosa che ahimè già esiste in diverse parti del mondo, tra cui l'Europa, uno vuole drogarsi, va in farmacia, va in un negozio molto spesso particolare, specializzato per questo, si compra la sua dose, chiedo scusa, e risolviamo i problemi. Perché liberalizzando noi risolviamo tanti problemi. Un ragionamento direi facile, un ragionamento che a mio modo di vedere non è né umano, è tampocco cristiano. Perché a me sembra che questo è un modo per scaricare l'altro, questo è un modo per non farsi carico dell'altro. Sentiamo cosa dice Papa Francesco a proposito e riprendo alcune parole che lui ha pronunciato a Rio de Janeiro il 24 luglio del 2013, quindi alcuni mesi dopo la sua elezione, visitando l'ospedale di San Francisco de Assis, Naprovidenza. Che cosa dice il Papa a proposito della liberalizzazione dell'uso delle droghe? Dice che non è con la liberalizzazione dell'uso delle droghe, come si sta discutendo in varie parti dell'America Latina, lì è chiaro che si riferisce all'America Latina, che si potrà ridurre la diffusione e l'influenza della dipendenza chimica. È necessario affrontare i problemi che sono alla base del loro uso, promuovendo una maggiore giustizia, educando i giovani ai valori che costruiscono la vita comune, accompagnando chi è in difficoltà e donando speranza nel futuro. Abbiamo tutti bisogno di guardare l'altro con gli occhi di amore di Cristo, imparare ad abbracciare chi è nel bisogno per esprimere vicinanza, affetto, amore. Ma abbracciare, continua Papa Francesco, non è sufficiente. Tendiamo la mano a chi è in difficoltà, a chi è caduto nel buio della dipendenza, magari senza sapere come. E diciamogli, tu puoi rialzarti, puoi risalire. È faticoso, ma è possibile se tu lo vuoi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.